Parliamo di Covid, Covid sull'isola d'Ischia, stiamo assistendo secondo i dati che vengono emessi settimanalmente ad una recrudescenza, un aumento dei casi sull'isola d'Ischia e sembra di vedere che c'è una ascesa, un picco soprattutto per il comune di Foria. Dottor Loffredo, che cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che avevamo detto prima dell'estate, che i giovani hanno un attimino abbassato la guardia e come dice giustamente il presidente De Luca, siamo prossimi alla quarta ondata, in questo momento dobbiamo stare attenti soprattutto faccio un invito alle persone non vaccinate, noi stiamo verificando che i vaccinati è vero che si ammalano ma non occupano le terapie intensive, quelli non vaccinati purtroppo stanno veramente male e hanno la malattia in tutti i suoi lati quindi praticamente cosa sta accadendo? Sta accadendo che i giovani continuano a non rispettare le norme io continuo a vedere persone, soprattutto giovani, negli ambienti chiusi, senza mascherina, senza rispettare le norme e le distanze di sicurezza noi non siamo ancora riusciti da questa pandemia, anzi stiamo per affrontare la quarta ondata, come giustamente ha detto il presidente De Luca quindi proprio in questo momento, con l'avvento dell'inverno, con l'avvento del virus influenzale dobbiamo stare più attenti e non ripetere gli errori fatti l'anno scorso Quindi dobbiamo puntare alle vaccinazioni ma anche alle terze dosi? Io già mi sono vaccinato, oggi ho fatto spontaneamente la terza dose bisogna vaccinarsi, si è dimostrato, abbiamo visto, nonostante tutte le proteste di noi Max che con il vaccino si sono notevolmente ridotti i posti in terapia intensiva e si sono notevolmente ridotti i numeri dei morti quindi l'unica arma, al di là delle polemiche, al di là degli scienziati ogni giorno uno si inventa scienziato e si inventa virologo l'unica arma che si è dimostrata essere valida è il vaccino quindi anche al di là delle complicanze, delle controindicazioni io invito tutti a vaccinare, ho fatto vaccinare tutta la mia famiglia appena sarà possibile anche per gli under 12 farò vaccinare anche il mio figlio che ha 10 anni